Ecco, eccoci qua. Oggi vi offro un pensiero che non è domenicale, ma è un pensiero feriale. Il Vangelo di questo giorno ci descrive in pochi versetti la vocazione di Matteo. Ma chi era esattamente quest'uomo? Chi era di preciso Matteo, figlio di Alfeo? Beh, le notizie che possediamo sono frammentarie. Di Matteo purtroppo noi sappiamo poco, pochissimo, direi quasi nulla, se non che era originario di Cafarnao, un piccolo villaggio situato lungo le rive del lago di Tiberiade, e che era anche un pubblicano, cioè un pubblico peccatore. O meglio ancora, sappiamo che era un esattore, un impiegato di Dogano, un ebreo che riscuoteva le tasse per conto dell'imperatore romano. Un uomo che veniva quindi disprezzato, rifiutato, odiato, non tanto per quello che faceva, quanto piuttosto per chi lo faceva, l'occupante straniero. Un uomo che era quindi in viso agli occhi dell'intero popolo ebraico, perché come tutti quanti i pubblicani era al servizio dell'invasore romano, e perché come tutti quanti i pubblicani anche lui molto probabilmente truffava ed imbrogliava i suoi stessi connazionali. Faceva la cresta sulle tasse e sui pedaggi, riempendosi così in modo indebito le tasche. Eppure, eppure, dice il Vangelo di oggi, Gesù lo guardò, lo fissò con uno sguardo pieno di misericordia e lo chiamò. Lo scelse e ne fece di lui un discepolo fedele, un testimone esemplare, uno schiriba perfetto del Regno di Dio. Insomma, ne fece di lui un suo apostolo. Di questa pagina del Vangelo però c'è un elemento che a me colpisce in particolar modo. E questo elemento è il banco delle imposte. Un banco che Matteo occupava con orgoglio e che a mio avviso ci deve far venire in mente fondamentalmente tre cose. Tre tipi di potere. Il potere economico, il potere culturale e il potere religioso. Il potere economico è quello che molte volte spinge l'uomo a celebrare il denaro come un Dio. Un Dio che può tutto e di cui i tabernacoli sono le banche. Nulla di più sbagliato. Il potere culturale invece è quello che molte volte spinge l'uomo a considerare la scienza come una verità assoluta, indiscutibile, inopinabile. Una verità che sola può salvare e che non ha nulla che spartire con la fede. Nulla di più sbagliato. Infine, vi è il potere religioso. Il potere religioso è quello che spinge molte volte i consacrati, cioè i diaconi, i preti e i vescovi, a considerarsi superiori ai laici. A spadroneggiare quindi sulle comunità, sul gregge che è stato loro affidato. Nulla di più sbagliato. Questi tre poteri, culturale, economico, religioso, dunque, se usati male, sono la rovina dell'uomo. Dell'uomo ne sono la distruzione. Il vero potere, il potere vero, allora, è quello del servizio. Che spinge, come Gesù, a spogliare se stessi per donarsi tutto all'altro. L'unico potere che un giorno conterà davvero agli occhi di Dio. Cerchiamo, allora, di acquistare, di assimilare, fra virgolette, questo potere. Il potere del servizio. Perché, come dicevano i cristiani dei primi secoli, servire Dio, regnare est. Servire Dio nei fratelli è regnare. Questo è il vero potere. Pace e bene.